24 scontrini da un euro con il pagamento tramite Bancomat di ogni transazione è la singolare richiesta che il titolare di una cartoleria in città si è sentito rivolgere l'altro giorno. Anche a Piacenza si registrano insomma i primi casi dei furbetti della lotteria degli scontrini, l'iniziativa messa in campo dal governo nazionale per favorire la ripresa del commercio, un concorso a premi gratuito che mette in paglio migliaia di euro per premiare consumatori e venditori per ogni acquisto pari o superiore a un euro effettuato con pagamento elettronico. L'estrazione avviene attraverso i codici lotteria abbinati agli scontrini, ben presto però qualcuno si è ingegnato per trovare l'inganno e accumulare quante più transazioni possibili. Ho ricevuto la richiesta di emettere 24 scontrini da un euro, spiega l'esercente Roberto Chitti, con relativo pagamento elettronico di un euro per ogni scontrino. La pazienza raggiunge un limite e ho categoricamente rifiutato, sottolinea il negoziante, pretendo che i clienti si comportino con un minimo di serietà soprattutto in questo periodo.